Ciao a tutti sono Bob777 e benvenuti in questo nuovo video di questa serie di Squad Builder in cui ogni settimana vi porto delle squadre formate da giocatori che hanno fatto determinate cose durante la loro carriera La squadra di questa settimana è la squadra formata dalle migliori simulazioni E come sempre vi ricordo di scrivere qua sotto nei commenti anche voi una squadra e chi mi avrà consigliato quella migliore vincerà 10.000 crediti E per ultima cosa vi ricordo anche che purtroppo come sempre per questioni di copyright Non posso mettere direttamente il video della simulazione in questo video e quindi vi linkerò sulla faccia del giocatore il link appunto al video Però adesso passiamo allo squad builder In porta abbiamo Dida Ecco qua il link del video sulla sua faccia Questa simulazione i milanisti se la ricorderanno tutti Io infatti me la ricordo benissimo In Champions League arriva un tifoso Si mette a correre Sfiora Dida con la mano Non lo tocca neanche Allora Dida prima inizia a inseguirlo Poi si butta per terra Simulazione incredibile Arriva addirittura la barella Non è successo niente Più che simulazione è una figura di merda questa Dida Il secondo giocatore è il giocatore del tuente Wisgeroff Anche lui fa una cosa bellissima Ecco qua il link del video sulla sua faccia Come si può buttarsi così? L'avversario neanche lo tocca Lui proprio si butta in avanti Proprio simula anche il tuffo Da tuffatore Mamma mia Il prossimo è Mascherano Questa partita dovrebbe essere in Coppa del Re L'avversario lo tocca dietro il collo Lui si butta indietro toccandosi la faccia Ma in realtà l'avversario non gli ha fatto niente L'ultimo difensore è Spice E rivedendo il video mi chiedo ancora come sia possibile fare una cosa del genere Ecco qua il link sulla sua faccia L'avversario gli testa appena appena al piede Lui si butta all'indietro Si tiene tutta la gamba Un informento gravissimo simula Poi i compagni che chiamano Barella Chiamano tutti Qui si può entrare veramente alle nomination per l'Oscar Il prossimo è un simulatore professionista Sto parlando di Young Ecco qua il link del video sulla sua faccia Control City fa una grandissima simulazione piena di tecnica Miller non si avvicina neanche Non lo prende neanche Lui si butta subito Ma mica la prima volta che lo fa Questo è solo un video che ho messo Ci sono tantissimi di tuffi di Young Ed infatti in Inghilterra ormai ha questa fama di simulatore E gli arbitri non credono più a niente di quello che fa lui Anche questo è veramente bello Sto parlando della simulazione di Fabregas Ecco qua il link sulla sua faccia Va muso muso con un avversario Si scontra con la guancia Si mette a girare la testa E poi si tocca tutta la faccia Non so neanche come spiegarlo Però è incredibile Il terzo centrocampista è Girardino Che quando giocava a Milan fa questa simulazione qua Ecco il link Prova ad andare in velocità L'avversario va in scivolata Girardino fa altri 3-4 passi Poi si butta L'arbitro capisce chiaramente Che è una simulazione Lo ammonisce anche Ma signori Eccoci con l'ultimo centrocampista Qua c'è solo da alzarsi in piedi E da applaudire Credo la simulazione più bella Che io abbia mai visto nella mia vita Probabilmente anche la vostra Sto parlando di Brian Carrasco Ecco qua il link di questa perla fantastica Una magia Ma cosa fa Brian Carrasco? È dietro un avversario Più la guardo più rido È dietro un avversario Prende il braccio dell'avversario Se lo sbatte in faccia Cioè ditemi voi Ditemi se questo non è genio Non ci sono neanche abbastanza aggettivi Per dire quanto è bella questa simulazione È per questo che il calcio è bello Grazie a persone come Brian Carrasco Volendo potrei anche finire il video qui Però non lo faccio perché mancano i tre attaccanti Il primo dei tre è Lafferty Ecco qua il video sulla sua faccia Pala è rimessa laterale Ancora faccia a faccia tra i due giocatori L'avversario lo tocca solo con il naso Lui si butta per terra toccandosi la faccia Hollywood aspetta anche lui Il secondo attaccante è Drogba Ecco qua il link sulla sua faccia Io a dire la verità Non sapevo veramente di questo lato oscuro E non ci sono battute di razzismo Però è veramente un simulatore Questa ad esempio contro il Napoli L'avversario allarga un po' il braccio Un braccio che però non si avvicina neanche al petto Cioè è ancora un po' più basso E Drogba fa la simulazione più facile da fare in quel momento Si tocca la faccia e si butta lì indietro Ma adesso siamo all'ultimo giocatore di questa squadra Se qualcuno si stava chiedendo Può mancare lui? No lui non può mancare Sto parlando del re delle simulazioni Vi presento Neymar Su di lui si possono tranquillamente trovare video che durano 11-12 minuti su compilation di simulazioni Ma se proprio ve ne devo far vedere una che racchiuda in sé tutto il suo saper simulare Vi faccio vedere questa del link sulla sua faccia Contro l'Uruguay l'avversario prova a tenerlo lontano con il gomito E Neymar come una molla prende la carica e si sgancia all'indietro E bisogna dire che però veramente subisce la mossa bene Cioè neanche fosse una stunner di Stone Cold Steve Austin Quindi Questa qui era la squadra composta dei giocatori che hanno fatto le migliori simulazioni secondo me Se ne avete altre che magari mi sono sfuggite scrivetelo anche qua sotto Se il video ti è piaciuto metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenta Da BOM777 è tutto Ciao a tutti